Ciao a tutti Marvel fans, la serie su Moon Knight è arrivata al termine e come avevamo ipotizzato nello scorso video, più o meno è successo che grazie all'aiuto di Tauret, Laila è riuscita a liberare Consu che a sua volta ha salvato Mark. Il duo Mark e Steven assieme a Laila e Consu riescono poi a sconfiggere Arthur e la dea Ammit. Mark e Steven sciolgono il loro patto con il dio della luna e sul finale sembrerebbero tornare ad una vita tranquilla, per usare un eufemismo. Fino a qui tutto tranquillo e lineare, ma a mischiare le carte in tavola è la scena post-credit nella quale ci viene rivelata la terza identità, ovvero Jack Lockley, la quale lavora ancora per Consu e porta a termine la missione, uccidendo Arthur. Complessivamente, vedendo tutte e sei le puntate, Moon Knight è stato un ottimo prodotto su molti punti di vista, soprattutto per le interpretazioni degli attori, primo su tutti Oscar Isaac. Ma arrivati al finale non capisco bene dove il tutto voglia andare a parare, ovvero se guardiamo il finale escludendo la scena post-credit, si potrebbe ipotizzare che Mark e Steven ritornino a vivere senza l'ombra di Consu e già questo porterebbe alla fine di Moon Knight. Ma essendoci l'introduzione della terza identità, il discorso cambia. I miei dubbi sorgono per lo più perché la serie tv è stata presentata come miniserie, ovvero non sono previste più stagioni oltre la prima, quindi non vedo come possa svilupparsi ulteriormente la storia di Moon Knight. Se prendiamo Loki, ad esempio, nel finale era riportato che il personaggio sarebbe riapparso in una seconda stagione, ma qui non accade. Così come è rimasta aperta la storia, escludo che Moon Knight possa riapparire in un film corale o di un altro personaggio, ad esempio Blade, come dicono i rumor. Questo perché la storia sembrerebbe punto a capo, ovvero se all'inizio Steven viveva la sua vita con buchi di memoria colmati da Mark, adesso entrambe le personalità vivranno all'oscuro delle azioni di Jake, per lo più inconsapevoli del fatto che lui lavora ancora per Consu. Solo questo basterebbe per imbastire una seconda stagione o un film da solista. Inoltre siamo stati stuzzicati più volte durante la serie su una possibile presenza di Lockley, ma a dirla tutta ormai pensavo venisse tralasciato come argomento. Oltretutto l'esistenza della terza identità mi ha sollevato ulteriori dubbi sul discorso della bilancia e dei cuori vista nel quinto episodio. Mi spiego meglio. Mark, per raggiungere i campi Yaru, deve far sì che i due cuori siano bilanciati e questo effettivamente avviene, ma com'è possibile se esisteva già la terza personalità. A rigor di logica, nel piatto della bilancia doveva esserci anche il cuore di Jake per far bilanciare il tutto. D'altro canto, però, mi è venuto da pensare che Mark è convinto di aver creato Steven per subire gli abusi della madre, ma potrebbe essere che durante i maltrattamenti sia uscito proprio Lockley. Questo spiegherebbe perché Steven non ha ricordo di quanto accaduto, visto che nei primi episodi sembrerebbe aver avuto un buon rapporto con la madre, ad esempio nelle scene in cui parla per finta al telefono. Cambiando argomento, direi che gli avvenimenti ambientati nel manicomio, esclusa la post-credit, siano accaduti nel subconscio di Mark e che tutto quello che abbiamo visto nella serie sia realmente accaduto. Su questo troviamo conferma nel finale, dove Mark e Steven concordano nel fatto che quello che è successo è reale. In conclusione, queste perplessità sul finale di stagione e sul futuro del personaggio non mi hanno fatto cambiare le mie opinioni su Moon Knight, che a mio avviso resta un ottimo prodotto. Escludo a priori che la storia sia finita qua, non è nello stile dei Marvel Studios d'altronde. Non ci resta che attendere notizie o un eventuale annuncio dai piani alti per capire dove potremmo rivedere Moon Knight. Nel frattempo fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni sulla serie e su quest'ultima puntata e se anche voi condividete o meno i miei dubbi. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. Friday, fammi un favore, attiva protocollo iscriviti al canale. Attivate la campanella così da rimanere aggiornati sui nuovi contenuti del canale e non dimenticate di iscriverti.